ma mi devo ricordare oltretutto pure di premere per parlare ragazzi gg e mo lo scoprirai samuele bravo spammi leo signor lele ecco l'arrivata perdonanza ma il mio computer ha i suoi tempi non si preoccupi non si preoccupi come siamo qui che si attende allora fantasma vuole la prova con il lettore mf pubblicità reale con l'incenso e meno 10 gradi celsius se si chiamava michael jackson ridevo e me lo ricordavo sicuramente meglio allora jackson risponde solo alle persone sole quindi bisogna essere da solo in casa quando si evoca già cominciamo bene in casa giustamente come primo game tre vogliono fare fare proprio easy ok a questo in basso sulle torci potenti ok la potente per in basso con ct pieghi perfetto benissimo ok la giu termometrino ci sono qua ok gentilmente offerti da offerti gentilmente dal più ricco del gioco perché io attualmente sto ancora livello 5 6 quant'è livello 5 6 quant'è livello 6 5 6 va bene vabbè siete stati veloci e poi senti o prendi il libro o prendi la radiolina è uguale tanto bisogna lasciarle tutte e due ok tanto rega se dovemo organizzare perché questo se risponda alle persone sole siamo a posto la chiave la presa si prego prego è cala aperta c'è anche il caschetto gentilmente offerto la vita ammazza stati tta quant'è offrente ok perfetto dopo di lei prego della serie così se me becca prima me insomma il tasto t sul termometro veramente il termometro bravo l'accenti a ok mamma mia tutorial dove ora andiamo io vado sopra vai andiamo sotto dieci gradi qui direi di no l'ho appena trovato calcola mazzo comunque in cucina sulle mattonelle quelle bianche blu davanti all'isola perfetto mi è appena apparso davanti che paio ora sta qua sotto ma è pure brutto rega se c'avevo la fotocamera avevo fatto la foto mannaia a me se c'avevo la fotocamera gli avevo fatto un primo piano porco giuro è 18 gradi è riapparso è riapparso di nuovo è qui praticamente qui si allora buttiamo il termometro non ci serve più se vedessi qualcosa ok non vedo più ha scritto ha scritto ha scritto ha scritto subito proprio ha scritto nel libro richard johnson se ci sei fatti vedere mostrati richard aspetta qui risponde da soli quindi aspetta mi tolgo io mi tolgo io vai al bagno tanto potazzi che no vado proprio nel campo no non è il coso che misura la febbre samuele quelle serve per misurare questo torna nel camper e vai a prendere il lettore mf vai così tanto ci serve sì stava là mannaia è qui la finestra allora io ho buttato su il crucifisso ok ok porca mi ha fatto una lidata vieni con me vieni con me che paura raga ma era pure brutto questo adesso ci sono sfere di luce ho piazzato la videocamera ok perfetto mi ha dato pure un paio di interazioni ma l'mf è suonato? no mo ci ci ritorno e vediamo se se mi da il 5 ok 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 allora libro spiriti allora con tanto regaccio lo mettiamo si siano di luce sto guardando niente al massimo regaccio e moro insomma tranquilli ciao zaghi è esploso nel livello 5 è esploso murte murte ok ok perfetto comunque le mf ce l'abbiamo 5 perfetto stavo buttando a terra tanto il lettore mmf ok 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 ctui altra alitata animaccia 2 eh zeki sto imparando a giocare infatti c'è il leo che mi sta imparando mi sta aiutando ad imparare insomma allora proviamo con quella per mostrati mostrati il stasione jackson ha risposto ha risposto ci siamo abbiamo tutti spirit box eh perciò è un oni ragazzi è un oni è un oni e infatti lo stavo dicendo io ero partita tutta convinta con la cosa per le impronte invece che classe si 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 nessuno continua ebbè dai ci sta dai ci sta ciao ciao